in questa quinta stagione della scuola del popolo di oristano riprendiamo la produzione di mini video che noi chiamiamo pillole di matematica ricreativa in questo caso presento i numeri triangolari e quadrati vediamo di cosa si tratta un numero triangolare come vedete a sinistra è un numero che si può disegnare geometricamente come un triangolo equilatero oppure come un triangolo rettangolo isoscele partendo dal numero 1 e addizionando man mano tutti i numeri naturali come vedete a destra 1 più 2 otteniamo il numero 3 3 più 3 otteniamo il numero triangolare 6 6 più 4 otteniamo il numero triangolare 10 e via di seguito in questa scheda vediamo i primi 20 numeri triangolari le fracce rosse rappresentano appunto quello che ho appena detto come avviene la costruzione di ogni singolo numero triangolare come fare a trovare un numero triangolare particolare per esempio in questo caso il quinto numero triangolare è semplicemente dato dalla somma dei primi cinque numeri naturali numeri che noi utilizziamo normalmente per contare da 1 fino a 5 otteniamo 15 il dodicesimo numero triangolare da 78 perché facendo la somma tra i primi 12 numeri naturali da 1 fino a 12 otteniamo appunto 78 ecco qui uno schema generale ma come si fa a trovare qualunque numero non certo facendo la somma fra tutti i numeri naturali sarebbe esagerato c'è esiste una formula generale che è questa e iniziare di triangolare di posto n c'è un qualunque numero triangolare di un posto qualunque lo troviamo facendo l'operazione n per n più 1 diviso 2 ma vediamo all'opera questa formula per capirla meglio e noi vogliamo trovare il numero triangolare che sta all'ottavo posto a posto di n metto 8 nella formula e facendo i calcoli otteniamo il numero 36 seguite la freccia rossa verso il basso l'ottavo numero triangolare è dato nel numero che sta sotto nella casella verde appunto il numero 36 seguendo appunto la formula che abbiamo visto ma questo non basta c'è un'altra proprietà particolare dei numeri triangolari sommando tra loro due numeri triangolari consecutivi otteniamo un numero quadrato cos'è il numero quadrato è un numero che si può disegnare geometricamente appunto come un quadrato vedete nelle schema in basso 1 più 3 fa 4 otteniamo il quadrato numero quadrato 4 che è il quadrato di 2 seconda scheda 3 più 6 otteniamo 9 che è il quadrato di 3 l'ultima scheda 10 più 15 otteniamo 25 che è il quadrato di 5 la cosa particolare che appunto si chiamano quadrati perché anche questi si possono disegnare come figure geometriche in questo caso appunto come quadrati grazie a tutti per l'attenzione arrivederci alla prossima pillola quadrati grazie a tutti per l'attenzione